Riecoci cari amici siamo alla parte conclusiva della nostra trasmissione sempre qui da Torte d'Intorni a Cirie a Laura Baima vogliamo chiedere alcune informazioni su questa location che è estremamente particolare questa villa di inizio novecento come mai portare un locale qui dentro? Diciamo che è stata una scelta sempre dei miei genitori casuale, molto casuale dopo essere andati in pensione hanno deciso che la pensione non faceva per loro e quindi hanno pensato bene di aprire un locale dentro casa con l'idea di spostarlo Cioè dove? In un'altra location, peccato che questa location non è mai stata trovata e quindi da 15 anni il locale è rimasto qui Loro sono andati in pensione però adesso sei tu a dover subire le conseguenze Esatto, quindi mi hanno lasciato questo regalo Voi vivete anche qui? Noi viviamo anche qui, sì Casa e lavoro è un'impresa positiva sotto certi aspetti perché comunque ci facilita però non stacchiamo anche mai Sì, diciamo che è una casa abbastanza accogliente quindi in realtà nel momento in cui non è locale diventa subito casa, subito abitazione quindi non è proprio così terribile abitare, insomma troppo vicino in questo caso al lavoro Grazie, è arrivata la nostra Elisabetta Elisabetta siamo arrivati al dessert, cosa ci presenti? Ciao Max, momento clou, una torteria che ci presenta dei dolci buonissimi abbiamo del bunet, tiramisù, una crostata di nocciole, una torta di arance e una crostata di marmellata d'uva fragola con una storia tutta particolare Storia particolare? Come mai Laura? Come mai questa marmellata che in realtà è un po' insolita perché non si trova comunemente in commercio viene fatta sempre dai miei genitori con la nostra uva fragola che arriva da una vite che ha circa 100 anni quindi quest'uva viene raccolta a fine settembre, viene lasciata maturare fino a dicembre, anche primi di gennaio e poi acino per acino viene scelta, viene cotta e quindi viene preparata la marmellata sempre dei miei genitori che hanno questa pazienza Un locale che ha tutta una storia, che ha tutta una struttura estremamente particolare dobbiamo dire, andiamo adesso a scoprire quello che è stato il commento degli ospiti di questa sera Molto bene, grazie Grazie a te Buonasera amici, siamo con la signorina Beatrice Che viene da Monasterolo E di questa sera dal menù di cosa avete scelto? Torta salata con ricotte spinaci e un'altra torta salata con melanzane e mozzarella E come mai questa scelta? Perché avevo voglia di torte salate e non avevo voglia di un primo poi questo posto abbastanza famoso per le torte quindi ho optato per le torte salate Bene, e sei cliente abituale di torte d'intorne? No, era una vita che non ci venivo, era un'occasione speciale, era un po' di tempo che non vedevo le mie amiche allora ci siamo incontrate qua E il locale l'hai conosciuto? Tramite la mia amica che è una cliente abituale Benissimo, allora vi lascio continuare la vostra serata e grazie Buonasera, siamo con alcuni ospiti della torteria, ho il piacere di parlare con? Franca, Giuliana e Ferdinando Franca, come mai siete qui oggi? Ma questa sera siamo qui perché abbiamo deciso di venire a mangiare delle torte Io sono molto golosa, sono con mia nipote e abbiamo portato anche un nostro amico Infatti non un ristorante qualsiasi Come avete conosciuto questa torteria? Questa torteria l'abbiamo conosciuta perché storicamente conosco i proprietari da quando avevano il ristorante Roma in Piazza Loreto, quindi più di 30 anni fa Cosa avete scelto da questo menù? Solo i dolci, allora io ho scelto tiramisù e un dolce zabaione amaretti Giulia invece un latte macchiato e Ferdinando un gelato Nessuna torta salata, come mai? Perché prima siamo andati in pizzeria e quindi qui siamo passati per il dolce Grazie, a te Max Grazie Elisabetta Eccoci alle parti conclusive della nostra trasmissione Siamo con alcuni amici di Sapere Sapori Con il nostro partner Dante Zanetti Ma anche con un amico che abbiamo, un caro amico che abbiamo trovato qui questa sera Che è il professor Franco Vercelli A Franco chiediamo la domanda che facciamo tutti i nostri ospiti di Sapere Sapori Qual è il piatto preferito? Ma il mio piatto preferito è il bollito Il bollito la piemontese perché combinazione mio nonno faceva commerciante di bestiami Quindi i macellai della zona mi favorivano sempre Però io sono contento di aver visto delle specialità qui Ma soprattutto di essere in una casa d'epoca D'epoca sono pure i vetri cattedrali Quindi se vedete queste paste di vetro Anche perché io ho sempre fatto il mercante d'arte Ho fatto le mostre più importanti in Italia Da Assisi, Roma, Viterbo, Venezia eccetera eccetera Ho sempre dato degli articoli ai giornalisti locali Descrivendo le cose d'epoca Un grazie a Franco Vercelli per essere stato qui con noi questa sera Per averci aiutato con questi suoi commenti pungenti Passo ora a Dante Zanetti Con Dante questa sera vogliamo parlare di qualcosa di particolare Che è la quattordicesima festa del libro di Orbassano Incentrata sul giallo Cosa mi racconti questa sera Dante? Appunto, allora parliamo di questa grossa manifestazione Che fra due giorni, il 19 sarà inaugurata Durerà quattro giorni È una manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Orbassano Con la collaborazione della Proloco E con la stessa agenzia Dove io sono sottoscritto collaboro nell'Union Model Abbiamo puntato questa grossa manifestazione appunto Nell'ambiente del giallo Del poliziesco, del crimine Con degli ospiti molto famosi Nell'inaugurazione, che sarà la presenza del nostro sindaco Ci sarà anche la Roberta Bruzzone La nota criminologa che vedete su tutti i canali Rai sempre Abbiamo altri personaggi abbastanza noti Come Giuseppe Culicchia Abbiamo Alessandro Meluzzi Lo psichiatra criminologo Abbiamo Bruno Gambarotta E moltissimi altri autori famosi Questo è sviluppo in tutti questi quattro giorni della settimana Concluderemo poi la domenica Addirittura qualcosa per i bambini Sempre nell'ambito della scrittura Avremo ospite Geronimo Stilton Il pupazzo famoso Ispettore che indaga appunto anche lui sui crimini per i bambini Bene, dopo questa parentesi del giallo Proposta da Dante Zanetti Torneremo sicuramente con Modo e Spettacolo Nelle prossime puntate di Sapere Sapore Benissimo, senz'altro Un grazie ancora a Dante Zanetti E come promesso nella nostra ultima puntata Che avete seguito la settimana scorsa È giunto il momento di proporre il primo dei vostri piatti Cioè la prima delle mail che ci avete mandato Se ne sono giunte molte all'indirizzo redazione Chioccia la piemontepaese.it Ma fra queste abbiamo selezionato la torta salata di zucchine Che ci ha inviato la signora Stefania di Castagneto Poe È realizzata con un rotolo di pasta sfoglia rotondo Due uova medie, quattro zucchine medie, sale e pepe nero La signora Stefania la prepara Bucherellando il foglio della sfoglia con la forchetta E aggiungendo quindi le zucchine grattugiate, le uova e un ragolare di sale e pepe Versato il composto nella tortiera La signora ci ricorda anche di piegare leggermente il bordo verso l'interno E di portare il tutto in cottura in forno statico preriscaldato a 180 gradi Un suggerimento infine Coprite la tortiera con un foglio di alluminio per preservare le zucchine Il risultato sarà gustosissimo Così come suggerisce la fotografia che vi abbiamo mostrato Bene, continuate a seguirci Su Rete 7 ogni martedì alle 22.30 E in replica il giovedì notte a luna Sia sul canale 12 sia sul canale 113 del digitale terrestre Ma anche su People TV, su Sky al canale 825 Ci trovate poi anche su Video Nord al canale 72 Ogni mercoledì alle ore 12.30 E ogni venerdì 15 minuti dopo la mezzanotte E su Nord Ovest VDA al canale 113 Ogni giovedì alle ore 13 E ogni sabato alle 11.30 Seguiteci anche su internet Attraverso il portale internet www.piemontepaese.it E su Youtube attraverso il canale youtube.com Slash sapere i sapori E attraverso le segnalazioni dei nostri media partner Il mercoledì e però Da Federica Biai, da Elisabetta Danieli E da Massimiliano Panero E da Torte ed Intorni Grazie e arrivederci alla prossima puntata Grazie a tutti